Mattia Bonifant è capitano dell'Italia campione d'Europa, è stata una battaglia difficile ma vi siete dimostrati migliori in campo? Sì è stata una grandissima battaglia, ce l'aspettavamo, era una finale, loro erano i campioni del mondo in carica, non aveva vinto l'ultima competizione europea quindi è degno il nome della partita che è venuto fuori, l'abbiamo vinta insieme, l'abbiamo vinta tutti uniti perché la volevamo tanto perché doveva... no.